e andiamo una vittoria importantissima questa e adesso dobbiamo pensare al Bayern Monaco dobbiamo pensare di fare una bella partita di andata però mamma mia che sofferenza mamma mia abbiamo vinto 1-0 contro un'ottima Samp devo dire che comunque avere Torregrossa ad esempio in panchina cioè è una squadra con Keita Baldeau tra l'altro ex insieme anche all'ex Candreva cioè veramente comunque anche Quagliarella e devo ammettere che comunque questa Samp gioca bene ha una bella squadra però diciamo che mamma mia, oggi abbiamo vinto però con fatica e gol dopo 24 minuti con Luis Alberto il mago Luis Alberto mamma mia che giocatore nel primo tempo diciamo che abbiamo fatto noi il gioco, poi nel secondo tempo abbiamo fatto anche un po' di cambi giusto per far riposare anche un po' i vari Correa e Luis Alberto appunto in vista della partita di Champions tra l'altro anche Leiva e mettendo appunto dei panchinali che comunque hanno fatto il proprio cioè è scalante e sta crescendo molto e comunque ACPAC Pro fa sempre il suo però è da mettere una cosa l'arbitro secondo me questa volta non dico che era dalla nostra parte però comunque c'è stato un tocco di mano all'interno dell'area appunto della Samp non hanno dato il rigore al nostro favore perché lì comunque ci stava era un tocco di mano proprio cioè inevitabile quello là era involontario poi è successo anche uno di Cerbis non ricordo male uno forse di spalla mezzo braccio secondo me di Milinkovic ad uscire verso gli ultimi minuti però anche comunque un intervento secondo me un po' dubbio di Acerbi che secondo me ha fatto una buona partita ma non straordinaria come come siamo abituati a vedere appunto Acerbi proprio quando gioca benissimo ecco poi però comunque bella partita di personalità secondo me di Musacchio che comunque mi sta piacendo secondo me può liberarsi un buon acquisto poi Patrick vedete una difesa comunque non solidissima però comunque diciamo che nel primo tempo poi Patrick bella partita anche si proponeva e spingeva su perché appunto lui secondo me è un esterno quindi di centrocampo quindi secondo me in quella posizione può spingere nel primo tempo dato che facevamo noi la partita era molto importante il suo ruolo e l'aveva interpretato anche bene poi tutti sottovalutano l'Ave ma secondo me ha fatto una partitona oggi è che non può giocare sempre giustamente poi è entrato scalante e l'ha sostituito bene secondo me solo che ha preso un giallo e quindi dovrà saltare la prossima quella di la prossima partita di campionato perché è appunto un'ingenuità però comunque quindi la salterà e dovremo giocare con l'aveva però anche Cataldi e Parolo comunque possono essere dei sostituti comunque all'altezza secondo me anche se più Cataldi perché Parolo verrà usato come panchinaro per la difesa adesso che siamo in emergenza in difesa come l'ho già detto anche dalla partita appunto no non alla partita ma come vi ho già detto dal video precedente che comunque vi lascerò in alto nelle schede comunque oggi partita immobile non ha segnato non può segnare sempre però nel secondo tempo siamo andati in difficoltà forse perché cioè quando esce Luis Alberto veramente la squadra non ha più la grande qualità Luis Alberto e Correa quando escono loro due gli unici calciatori che riescono a saltarti l'uomo quindi ovviamente poi è venuta fuori la Samp ma come giusto che sia perché noi abbiamo abbassato anche i ritmi secondo me ci siamo un po' accontentati anche se non nascondo che cioè noi mai a chiudere la partita mai dobbiamo sempre sperare che appunto non cioè io veramente avevo paura che anche la punizione al 94 cioè veramente io avevo paura che che arrivassero il gol della Samp il gol della Beffano del pareggio comunque partita sofferta ma vinta questo è l'importante tre punti fondamentali in vista per la classifica del campionato e in vista anche moralmente appunto che per la partita di Champions di martedì che farò il post partita ovviamente live non penso perché prima sarò impegnato comunque la partita riuscirò a vedermela però non penso comunque di fare live però vabbè sotto in descrizione ovviamente il link per seguirmi su Instagram vedrò se essere più attivo dipende tutto da voi e poi il link anche per appunto appunto per fare per votare al sondaggio per il futuro di questo canale quindi se pensate che abbia un futuro andate a votare io ve l'ho detto ormai fra una settimana chiuderà il sondaggio e quindi vedete voi se votare o no poi vi ricordo ovviamente di attivare la campanellina altrimenti non vi arrivano le notifiche e la maggior parte di voi che guardano i miei video non sono iscritti quindi per me è importante per voi è gratuito quindi ecco vi consiglio di farlo così anche vedete ogni giorno contenuti diversi e ho intenzione di aprire anche altri canali quindi potrete seguirmi anche là e poi lasciate like su questo video se volete domani le pagelle della partita e comunque adesso vorrei dire due cosine giusto alla partita e quindi ritornando a noi parlando di cose serie quindi della partita che comunque sono ovviamente importanti anche quelle però adesso in questo caso non riguardano niente alla partita non è nulla di ciò che riguarda adesso quindi Luis Alberto magnifico Milinkovic Milinkovic diciamo la verità è stato ha fatto una buona partita poi diciamo come al solito è un po' troppo lezioso verso verso l'ottantesimo più o meno non mi ricordo di preciso però lì ha perso un pallone che secondo me era era da evitare però comunque sappiamo tutti come si è fatto se lui riesce a migliorare anche quello secondo me potrebbe essere molto forte perché negli ultimi minuti secondo me va un po' un po' come tutta la Nazio in difficoltà e appunto e a Cerbi comunque lì al centro vedete no se a Cerbi in difesa sta al centro è molto meglio no perché poi Musacchio non mi ha dispiaciuto là Patrick riesce anche bene a impostare quindi complimenti poi a Inzaghi che secondo me ha preparato bene la partita sapete una cosa Emilinkovic secondo me poi comunque anche senza secondo me perché veramente è stato un errore clamoroso a 92esimo minuto e aveva recuperato il pallone in fase offensiva lì dovevi chiudere la partita definitivamente vabbè l'abbiamo vinta lo stesso però lì era un'occasione che in lui c'era passata invece di passare eri solo davanti a Udero ma metti da dentro capisco che non sei un attaccante ma hai anche qualità nel tiro metti da dentro cioè sei a 10 metri più o meno porta vuota davanti al portiere davanti a Udero che comunque quest'oggi ha fatto una bella partita anche se non ha fatto questi gran miracoli comunque la Lazio non ha creato moltissime occasioni neanche la Sampdoria però comunque abbiamo fatto entrambi abbastanza comunque quelle occasioni ecco che abbiamo creato anche se noi nel secondo tempo zero e blackout cioè è impressionante questo sarà appunto secondo me perché mancano e Luis Alberto e Correa sono mancati loro nel secondo tempo e non siamo riusciti a creare il gioco poi comunque quando è entrato Faresso non mi è dispiaciuto però anche lui mediocre secondo me come Patrick si impegnano ma non hanno secondo me le qualità per giocare nella Lazio titolare a questi grandi livelli poi diciamo due paroline anche Correa mi è piaciuto molto sempre propositivo ecco perché lui è una coppia insieme ad Immobile secondo me deve essere la coppia titolare perché sono veramente forti poi ci sta mettermi dentro Murici e appunto anche Kaisedo che i loro lo fanno anche perché riescono a tenere i palloni con la loro fisicità imponente però diciamo che Murici 20 milioni e si è mangiato un gol clamoroso davanti alla porta capisco il passaggio era un po' forte ma io dico 20 milioni impossibile che vabbè tu sei mancino ma con il destro quindi non sai anche veramente colpisci così il pallone è impressionante abbiamo capito da qua che di destro non è capace di destro non esiste il destro di Murici e lui è bravo solo di testa e con il sinistro se la cava velocità è un po' lento ovviamente nel Morviola Murici è lento però vabbè comunque troviamo anche una cosa positiva di Murici che comunque riesce in qualche modo a tenere palla comunque si con il fisico anche lui ci può essere utile soprattutto quando dobbiamo battere ad esempio calci d'angolo Milinkovic cebrava su punizione per poco non risegnava anche in questa appunto nell'occasione nel primo tempo però appunto secondo me sul calcio d'angolo dobbiamo essere più propositivi dobbiamo far battere a Correa che è vero che ultimamente calciava delle ottime appunto degli ottimi calci d'angolo invece Luis Alberto prova sempre il tiro così vabbè detto questo da Marco Sport 41 è tutto ci vediamo con un prossimo video bella sempre forza Lazio e occhio adesso testa alla Champions arrivederci e a domani se lasciate like con le pagelle che vediamo con le pagelle Grazie a tutti.